Un sabato di disagi, non solo per i cittadini di Marino, ma anche dei castelli romani sulla via Maremmana e sull'Apia, quello del 12 febbraio. L'annuncio di Casa Pound Castelli Romani di voler fare una fiaccolata per ricordare i martiri delle foibe in piazza Matteotti a Marino ha creato preoccupazione nella sinistra marinese che nello stesso pomeriggio ha improvvisato un presidio nella stessa piazza. Le forze dell'ordine, allertate, onde evitare scontri problemi hanno ritenuto opportuno bloccare le vie d'accesso alla piazza e questo ha fermato il traffico per più di due ore. In un clima surreale, in una Marino assediata, i cittadini hanno assistito a due presidi che poco hanno capito. Da una parte i ragazzi di Casa Pound in silenzio con le fiaccole accese, dall'altra i ragazzi della sinistra marinese che gridavano slogan e incitavano la cittadinanza a dire no al fascismo. In mezzo, gli uomini del commissariato di polizia e i carabinieri di Marino, che in maniera responsabile ed esemplare hanno gestito la situazione, anche cercando un dialogo con le opposte fazioni per limitare lo scontro a slogan e spot top. A dire il vero, nessuno dei presenti, né da una parte né dall'altra, aveva intenzioni bellicose e si trattava per la maggior parte di ragazzi giovanissimi, ma la prudenza, si sa, non è mai troppa. I cittadini, che in larga parte hanno assistito senza ben capire cosa stava succedendo e quale era la ragione del contendere, però non hanno apprezzato questo blocco del paese. Alcuni negozi hanno chiuso, altri hanno abbassato le serrande per paura. I pendolari sui bus del Codral imprecavano, fermi in fila, così come molti, automobilisti. Alle 19 i ragazzi di Casa Pound hanno sciolto il presidio e subito dopo hanno fatto lo stesso i ragazzi di sinistra. Il paese ha tirato un sospiro di sollievo dopo due ore di freddo e di tensione. Mentre i segretari di SEL, PDC e PRC presenti al presidio chiedevano perché fosse stato rilasciato a Casa Pound il permesso di fare questa fiaccolata in piazza, i ragazzi di Casa Pound, sempre ai nostri microfoni, ribadivano che non si trattava di un comizio politico ma di una commemorazione. Resta il fatto che molti esponenti di destra e sinistra presenti in piazza hanno dichiarato che ritenevano inopportuno autorizzare presidi di questo genere in piazza, quale che sia il colore politico rappresentato, visto che alla fine crea problemi a cittadini e commercianti, che infatti non hanno lesinato aspri commenti alla vicenda.